400 perai a lavoro 7 giorni su 7, 8 chilometri di tunnel scavati da San Marten-la-Porte in Francia verso l'Italia. È il tunnel della Torino-Lione, porzione del cosiddetto corridoio mediterraneo che va dal Chesiras in Spagna all'Ucraina e dovrebbe entrare in funzione nel 2030, ma l'Italia vuole ridiscutere l'opera. Al cantiere francese in Savoia c'è un'aria tranquilla e la militarizzazione del cantiere Tav di Chiomonte, così come le battaglie Notave, sembrano lontane anni luce, in realtà sono a 64 chilometri. Entro giugno a San Marten-la-Porte la talpa Federica dovrebbe completare lo scavo dei 9 chilometri dell'asse del tunnel di base. Intorno i francesi hanno già scavato tre discenderie, 21 chilometri di gallerie che nel corso della costruzione sono gli ingressi logistici per lo scavo nella montagna a mille metri di profondità con punte di oltre 2000 metri. La fresa Federica scava in media 400 metri al mese. L'unica discenderia italiana è quella del tunnel di Chiomonte, 7 chilometri, dove è previsto che in futuro partano gli scavi della parte italiana del tunnel di base. Il presidente del Senato francese, Gerard Larchet, per la prima volta ha visitato il cantiere e si è detto ottimista sul prosieguo dell'opera, annunciando di essere pronto a incontrare il ministro dei trasporti italiano Danilo Toninelli. Sono ottimista, il dibattito è legittimo, ma il cantiere sta andando avanti, ha detto Larchet, a proposito delle polemiche politiche italiane sulla Turino-Lione. È un progetto tra due nazioni, è un progetto europeo che risponde a una necessità globale. La Turino-Lione, ha detto, è una necessità e non si deve avere paura. In questi giorni i cinesi sono a Parigi, vogliono fare la via della seta, non voglio che i treni arrivino pieni dalla Cina e ripartano vuoti, ha aggiunto. A illustrare i lavori al presidente del Senato francese, i vertici di Telt e il presidente della commissione intergovernativa italo-francese, Louis Besson. Il presidente di Telt, Hubert Dumesnil, ha detto che è un'opera che è avanzata con qualche preoccupazione, ma che sta andando avanti. E Mario Virano, direttore generale di Telt, ha spiegato che la presenza del presidente del Senato francese al cantiere TAV di Saint-Martin-la-Port, rappresenta un messaggio importante, anche per l'Italia. Quest'opera, ha precisato, è un lungo percorso di cui gli accordi istituzionali hanno permesso l'avanzamento. In Italia c'è ancora qualcuno che non ha capito cos'è il tunnel di base. Basterebbe il buonsenso. Significa che i treni viaggiano in piano, eliminando la pendenza della montagna, dicendosi poi fiducioso che si riescano a rispettare i tempi.